ciao a tutti gli amici di roma più ben trovati eccomi qua di ritorno con un nuovo unboxing ed oggi andiamo a scoprire l'edizione limitata 4k di terry fire 2 box set quindi una bella uscita per midnight factory che va a recuperare un bel film della saga di terry fire e all'interno include anche l'originale terry fire l'inizio quindi non il capitolo del 2016 ma proprio l'originale di questo art the clown che veramente sta terrificando un po tutto il mondo degli appassionati del dell'horror per aver pronunciato bene sì art the clown il titolo il nome del pazzoide protagonista di questa saga e devo dire che una gran bella edizione perché sì è una semplice edizione classica della midnight factory con slip case e a marai cicciottosa all'interno con splendidi art lavorati dal vertigo che come sempre pubblica queste edizioni cioè produce queste edizioni della midnight factory e poi al suo interno ovviamente non manca il classico fogliettazzo con tutti i punti salienti della collana un bel booklet non corposissimo con un saggio del film sempre redatto dalla redazione di notturno con anche delle immagini del del nostro sanguinoso vai ascio molto più sanguinoso del pagliascio di it devo dire che un secondo capitolo divertentissimo e che fa vedere che sono arrivati i soldi insomma il successo ha portato qualche soldo in più al regista per farsi insomma produrre questo secondo capitolo e poi ovviamente non manca come da classica scelta della midnight factory anche un bell'art work interno guardate qui che bella immagine con i due protagonisti principali di questo secondo episodio come vi dicevo c'è il disco 4k che si vede una bomba ovviamente dolby vision hdr come se piovesse buono anche il doppiaggio italiano rispetto per esempio al primo capitolo che non ha magari un doppiaggio italiano performante molti se ne sono lamentati in questo caso invece abbiamo un buon doppiaggio italiano poi abbiamo ovviamente il disco blu ray che si vede magari in maniera lievemente inferiore al 4k ma si vede stra bene anche questo ovviamente per entrambi 5.1 hd italiano originale e in questo disco trovate anche parecchi extra più di un'ora di extra tra intervista esclusiva al regista intervista al regista al protagonista e un bel backstage making off di circa 40 minuti del secondo capitolo devo dire tanto di cappello un gran bel disco con parecchi extra e poi per finire come dicevamo abbiamo anche il capitolo originale che è una sorta di raccolta dei due corti che hanno dato vita a questo personaggio più una terza parte prevista per realizzare questo film e poi dopo c'è stato quello del 2016 noterete anche la differenza tra questo e il secondo insomma noterete veramente quanto sono cambiate le possibilità produttive del film per il successo che ho avuto devo dire che è una gran bella saga per questo video come sempre ragazzuoli è tutto se vi è piaciuto io vi invito a mettere un bel like se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate sempre la campanella per restare aggiornati sui prossimi unboxing e noi ci vediamo alla prossima ovviamente questo film lo trovate ovunque ma io vi lascio come sempre il link in descrizione ad amazon ciao ciao a tutti ciao a tutti